benvenuti in nuovissimo video di minecraft oggi creeremo una base adesso mi sto incantando un'armatura ok adesso prendiamo con l'altro che non so mai come si chiama cavolo da fabbro ecco ok mettiamo il template mi serve anche il materiale ok mettiamo questo questo qui questo qui e questo qua questo qua questo qua questo non si può mettere ok adesso prendiamo anche qualche libro per incantare affilatezza 5 va benissimo facendo della tropecino bello questo saccheggio non serve molto anzi mettiamolo ok non era questa qual'altro questo questo qui no mettiamo questo diamo anche questo e adesso l'armatura adesso i piedini facciamo respirazione si passa un fibio non credo che si possano mettere insieme tutti e 3 infatti non si può mettere insieme adesso efficienza no cosa serve piccone potenza arco ok mettere a mettere ghiacci si vedete riparazione 1 2 3 e 4 ok Gialmente le riparazioni Ah si Allora ne serviranno 5 Riparazione Riparazione Una torre di ghiacci Ho sbagliato Ok Non si può mettere Ok Adesso che abbiamo un'armatura Ce la mettiamo 1, 2 3, 4 E questa la mettiamo qua Riprendiamo redstone Questo Leva E un blocco Materiale, materiale, erba Erba Eccola qua Ok Adesso faremo una porta Se forse Ok Così Mettiamo anche uno qua Un altro qua Forse funziona Vai via maiale Adesso dobbiamo solo collegare Tutto con la redstone 1, 2 E dall'altro Ho capito Ho capito Come si fa Così La sottoterra Passa da quell'altro Dovrebbe essere qua C'è una mucca che ha fatto Per un verso Ok Magari scavo qua sotto Basta mucca Ok Colleghiamo il tutto Con la della redstone Mettiamo tutto così E ci mettiamo anche quello lì Perfetto Adesso Dovremo fare una Cosa semplicissima Ricoprire di scuro Per non farvi vedere Che abbiamo fatto male Metterci un po' D'erba qua Ecco E adesso La leva Dove la metto Perché non è stata in situazione La leva E Con l'altro Questo scusa Ah perdono Ho sbagliato E manca un blocco Ok Adesso Mettiamo questi due Ecco qua Questo copriamo Ecco qua E la leva Scusate Ok Ecco la leva E' lì Quindi adesso La spacchiamo Mettiamo giorno Sicuro Questo Dov'è l'impostazione Eccolo qua Ora Giorno Dov'è lo scheletro Eccolo là Eccolo qui E dov'è No dai È la mia base Scheletro Non hai detto Scheletro Non vuole Beh Ho finito io il lavoro Dio Eccolo Eccolo nero E' rarissimo La pecola nera Dove sono le accesoie Anzi no Questo Eccolo nero Vieni qua Vieni qua Eccolo qua Ti faccio Ti faccio un decino Sto Ok Perfetto Sta ferma Pecora Sì puoi Bidruccare Tutta la terra Che vuoi Ok Vieni qua Ho fatto un volo Troppo piccolo Il mio pecorello Ok Vieni qua dentro Si mangia No maiale Cattivo Maiale E infatti Fa bene scappare Ti è Vieni qua Pecorina Corretta Ecco Così E adesso Non scappare Brava Capito Il fieno Eccolo qua Non penso Che mangi Il fieno Ma Lo metto Comunque Qua No Pecorella Pecorella Volevi scappare Voleva scappare Ma non si riuscirà No Pecorella Pecorella Eh Mi ho fatto scappare Scusa Ma perché Pecora Pecorella Si può Prima Eccolo Un taglio E Pecorella Allora Facciamo Paticchia di amicizia lunga Vieni Con me Ma Capito Ti porto In alto Ti faccio Cadere Qua giù No È morto No Rip Pecora Rip Pecora Rip Super Rip Ok Adesso Continuiamo Povera Pecora Lasciamo Perda Di qua Ok Prendiamo Sotto qua Pecora Ok Ok Dove è la base Eccolo Prendiamo Questo qui E lo mettiamo Anche qua Questo non serviva Lasciamo perdere E ci mettiamo una leva Che aprirà il tutto Magari con delle pietre Che mettiamo Le pietre Ecco qua Un Due Tre Quattro Di età Vediamo adesso Se funziona Alla grande Anzi Ho un'idea Migliore Il 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 e un'altra facciamo in questa maniera allora ciao a tutti il video è finito ciao